Nei giorni scorsi ha destrato clamore l'inchiesta che ha portato alla segnalazione alla magistratura per spaccio di droga di due persone che frequentavano l'asilo occupato, una struttura che dà anni al centro di molemiche e nella quale per i salvignani in consiglio comunale è necessario effettuare un sopralluogo, come spiega il capogruppo Luigi Deramo. Io credo che vada messa la parola fine a questa drammatica e squallida vicenda. Sono anni di illegalità che si susseguono all'interno di un immobile occupato, tra l'altro catalogato B, quindi inagibile, all'interno del quale sembrerebbe esserci addirittura un'attività di somministrazione di bevande e quindi un bar senza nessun tipo di autorizzazione. Le spese dell'energia elettrica sembrerebbe che le stia pagando il comune da 4-5 anni a questa parte e qui si arriva al paradosso che si cacciano fuori i cittadini del progetto Casa che non ce la fanno a fine mese a pagare le bollette e si paga l'energia elettrica all'interno di un immobile occupato. Per di più siamo arrivati anche come città a dover assistere alle ultime notizie e cioè che all'interno di questo immobile sembrerebbe ci sia stato anche un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Credo che l'amministrazione abbia il dovere immediato di riportare una situazione di legalità all'interno della città e nei confronti di un proprio immobile. Tra l'altro è assurdo che un consigliere comunale non possa di fatto avere accesso a un immobile di proprietà del comune e quindi per questo anche per verificare cosa realmente c'è lì dentro abbiamo ufficializzato questa mattina e chiederemo che accompagnati con tutte le autorizzazioni di legge di poter entrare per fare un sopralluogo all'interno dell'asilo occupato.